La verità sul futuro dei lavoratori della OM Carrelli Elevatori di Bari verrà alla luce in giornata, subito dopo l'incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico con i rappresentanti aziendali della Metec, l'azienda che sulla carta aveva manifestato il suo interesse a rilevare lo stabilimento barese e riassorbire l'intera forza lavoro, riconvertendo la produzione dell'impianto con una nuova linea di componentistica per auto. Piano che peraltro chiedeva ai lavoratori di partecipare all'investimento con 10.000 euro a testa, un sacrificio che gli operai baresi avevano deciso di accettare pur di salvare il posto di lavoro. Ma dopo numerosi rinvii è arrivata la doccia fredda poiché lo stabilimento di Bari è scomparso del tutto nell'accordo quadro che prevedeva la reindustrializzazione da parte della Metec degli stabilimenti di termini merese e il trasferimento della produzione in Sicilia. La novità ha colto di sorpresa i lavoratori dell'ex OM che a dicembre sono scesi in piazza chiedendo chiarezza e rispetto, il che ha spinto l'assessore regionale Caroli a bussare nuovamente alla porta del ministero. Nell'incontro odierno si comprenderà qual è il vero interesse della Metec per l'impianto barese. A sostegno del tavolo un centinaio di lavoratori attualmente in mobilità presiede gli uffici ministeriali. La regione ha sottolineato l'assessore Caroli alle risorse necessarie per cofinanziare una soluzione e la volontà a facilitarla, ma non ha la titolarità per trovarla. Il governo nazionale ha detto che deve individuare un piano industriale credibile per il futuro dell'azienda barese.